La tv di Mimmo è bella e grande. Con i documentari ti farò conoscere il mondo, paesi vicini e lontani, Roma, Parigi, New York e l'Africa con i suoi animali. Ti faccio vedere come puoi costruire oggetti simpatici con Art Attack. Guarda, con poco ti creo un bel fiore. Dai, ora divertiti che ci sono i cartoni. Mi è sembrato di vederlo a un gatto. Mi sono innamorato. Come sei bello! Tira quella palla! Ora tiro! Ora guarda e poi vai anche tu a cercare il tuo prato. Stai qui! Non ti muovi! Manza patatine e queste cose buone! Vatti sotto, sei coraggio! Prendi questo! E questo! Mimmo, vieni al barco, dai! No, c'è il mio cartone preferito! Stai fermo davanti alla tv! Mangi schifezze! Qualche giorno scoppierai! Non ti muovi! Anch'io, anch'io! Aspettatemi, aspettatemi! Facciamo che riva prima! Grazie a tutti!